Sarà un Natale amaro quello di quest'anno per i pastori del presepe di Tortora, a portare in scena la crisi sociale ed economica che ha raggiunto anche il simbolo del Natale, la compagnia teatrale e il suo direttore artistico Domenico Cirimele. Un presepe che si lega da sempre alle tradizioni e non solo religiose di un popolo, oggi sempre più alla realtà e con frequenti riferimenti al quotidiano. Tanti ad esempio i personaggi famosi che nei presepi di via San Gregorio Armeno a Napoli trovano ospitalità al fianco del Bue e dell'Asinello. L'anno scorso Renzi e Papa Francesco, le new entry di quest'anno, i tre giudici di Masterchef e Domenico Cirimele e suoi hanno perciò annunciato lo sciopero generale del 26 dicembre. Si scaturisce dal fatto che questi pastori non accettano alcune innovazioni sul presepe, quindi loro legati al presepe tradizionale non sopportano intrusi, non sopportano che qualcuno possa stravolgere quello che è stato il presepe di sempre. Non è una classica commedia tipo le nostre precedenti, è un qualcosa di diverso, quindi lancia chiari messaggi proprio in questo fattore per la crisi e per altre cose che non posso purtroppo svelarvi prima perché si perderebbe il gusto di vederla lentamente e capire per bene pian piano la rappresentazione teatrale. Tutto tra i vicoli di Tortra Centro Storico. Il 26 il tutto comincerà alle 14.30 con un presepe vivente organizzato sempre da noi, compagnia teatrale, con il grosso contributo, la grossa partecipazione del plesso scolastico Tommaso Sagario, l'associazione Zafarana Fest, la Zafarana di Tortra, mi correggo, siamo poi il presidente Giuseppe Limongi, avrà a che dire. Alle 17 appunto ci ritroveremo in piazza Plebiscito, sempre seguendo la linea del presepe ci sarà proprio un percorso obbligato, ci porterà lì e alle 17.30 cominceremo questo secondo spettacolo. Compagnia che cresce anno dopo anno. La sede ce l'abbiamo già da alcuni mesi, gentilmente concessa dall'amministrazione comunale, concessa pure grazie a quello che noi abbiamo dimostrato in questi nostri pochi anni, perché sono ancora pochi anni di attività, tra virgolette, perché abbiamo comunque proposto cinque belle rappresentazioni teatrali qui a Tortra, siamo andati anche fuori, abbiamo partecipato a una rassegna provinciale che si tiene a Fagnano Castello con ottimi risultati. Diciamo che noi oltre a recitarle le commedie, noi siamo autori, quindi noi le scriviamo e soprattutto cerchiamo di scrivere in vernacolo per riscoprire il dialetto come prima cosa e poi tante altre tradizioni. Grazie a tutti.